Finanzi.com è al Toll Expo con Christophe Gorosei di Unicredit per parlare di certificati di investimento e investimenti lungo termine. Christophe, cosa ci puoi dire a proposito? In realtà il certificato sta veramente conoscendo, nelle due ultimi anni, una crescita presso i promotori. Perché? Perché sono soluzioni che consentano di variare l'offerta, nel senso di offrire alla clientela soluzioni di investimento diverse di quelle tradizionali. In particolare consentano di offrire anche soluzioni per la parte del portafoglio che il promotore difficilmente avrà raggiunto, cioè un portafoglio di azione del cliente che finanziariamente si gestiva da solo. Adesso con il certificato, il promotore può offrire un'esercizio. Le soluzioni e l'obiettivo sono fondamentalmente tre. o andare a cercare il rendimento, che è la prima, dunque, per esempio, con il certificato di bonus, bonus gap o cash collect, si va a trarre dal mercato il rendimento, e lì stiamo parlando di rendimenti che possono variare dal 10 al 20% all'anno, mantenendo una protezione, in genere un bonus, offre una protezione che varia dal 25 al 30% del mercato, cioè il capitale e il rendimento viene garantito finché la borsa non vada a correggere tanto. Dunque, una soluzione per, in realtà, massimilizzare il rendimento del portafoglio del cliente senza entrare, non dicare puramente di azionario, dunque, senza prendere un rischio azionario. Lo vediamo nei numeri che, comunque, i certificati hanno già, sono già stati sullo schieno quest'anno, oltre 7 miliardi, dunque, 7 miliardi di euro sono stati investiti tramite rete bancario, ma anche tramite rete di produttori. Quindi, effetti, per andare a, sullo schieno, il certificato, che è un'offerta della rete di appartenenza, o l'appoggio che si sta svolgendo molto, sul quale stiamo lavorando, come potete fare sia servizi, ma anche soluzioni personalizzate, e il fatto di offrire questi strumenti in consulenza, offrendo la consulenza di un cliente, fuori, come si chiama, a parma, fuori, come si chiama delle rete, comunque, si va a migliorare il profilo del cliente, le tre strategie conferte per il nostro rendimento, il recupero delle perdite, che è un'importante, che gli guadagni, anche con quei rendimenti staccati dal certificato, sono redditi, non si, dunque, interamente compensati con perte, per esempio, fondamentale, dove, in certi casi, la clientela ha accumulato, in certi casi, le perdite si possono offrire rendimenti tax-free. Il terzo è, effettivamente, quella possibilità, in comprensa, di andare a mitigare gli rischi, che ci sono legati a un po' fanno della protezione, che consentano di diminuire il rischio di protezione del portafoglio. Quindi, rendimento, oltre che guarda le perdite, oltre che un'immigrazione di rischio. Ecco, per un consulente che è interessato ai vostri prodotti, ci puoi dire con quali reti avete degli accordi particolari, oppure dove può trovarli anche online, i vostri prodotti? Sì, ma in realtà è interamente aperta la nostra soluzione, che ho fatto in certi strumenti, in cui ho preso certe reti, ma adesso questi interlocamenti si avvano anche a essere uniti di rete, la tua notte online sono disponibili, in questo nostro sito c'è una sezione dedicata al mondo di promozione, che si può nella sezione Quad Marcus del nostro investimento, dove si va a presentare tutte le soluzioni disponibili. Christophe, ti ringrazio, buon lavoro, grazie mille. Grazie a voi.